Questa che vi racconta è la storia vera di uno che non voleva scioperare che sia della Peccucci o della Viro, questo non conta nulla in verità ieri eravamo fuori dai portoni, proprio da Peccucci in via del Borgo e tutti si gridavano, basta Raffi, evviva il gruppo dei lavoratori No, 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 non devi entrare, no, 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 non devi entrare mai, mai, mai Rubiro! No, 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 non devi entrare, no, 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 non devi entrare mai, mai, mai Rubiro! Riva Fiorento col materassino, riva con la gavetta e col fanino E lui va camminando di nascosto, cercando in tutti i modi di fare presto Si leva un fischio e non è un saluto, si leva un fischio e poi sono tanti E poi da tutti quanti gli scioperanti Un grido, uè, crumino, uè, tornuto! No, 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 non devi entrare, no, 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 non devi entrare mai, mai, mai Rubiro! No, 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 non devi entrare, no, 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 non devi entrare mai, mai, mai Rubiro!